Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Non mi fai entrare Porca! 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 Non so mi ricorda Natale, mi ricorda le festività Perchè di solito la roba di cibo eccetera eccetera Non lo so mi ricorda il periodo delle festività a Natale E infatti manca poco Ma esce un ragno enorme Allora vediamo un po' Aspetta Ma questa Ragazzi il menu che ho scelto Non ci credo Bellissimo Nooo Buonasera Sizer Tutto bene Tu come stai? Comuiamo Sizer Comuiamo Ma se ne bocciano tanti poi ti ritrovi gli stessi Mi stanno esplodendo le orecchie Mi bruciano E' altissimo questo suono Sai che è la prima volta che ho nelle cuffie No Oddio No ragazzi 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 Ragazzi